le nostre compagne, ne parla tu, pare che sia un sistema formidabile lo ha autorizzato addirittura il presidente, quindi vavi ragazzi, bene bene, cominciamo subito allora, svelti, mettetevi tutti in fila, su su, 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 in fila, su purtroppo ragazzi, devo avvertirvi che prima di provare con un po' di musica, come dite voi, è indispensabile eseguare con le classiche flessioni per terra su, tutti a terra, giù, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, tutti insieme, le gambe rigide come me, guardate, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, tu vai molto bene, uno, due, uno, due, no, no, più rigido, più rigido, su, su, detto uno, due, uno, due, ma che fai? uno, due, no, col sedere, tutto, tutto rigido, non alzare soltanto il sedere, su, scoraggio uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, tutti insieme, uno, due, 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 uno 1, 2